Ciao, bentornati a Dentro la mia testa, il mio podcast. Oggi ho un ospite, Thomas Aswini. Quindi è dentro la nostra testa. Dentro la nostra testa oggi. Ah, sì, forse dentro le nostre teste. Sì. Perché sono due teste diverse. Perché ho deciso di chiamare te, non perché viviamo insieme e perché era comodo da fare, ma perché ho già fatto altri episodi con lui e sono piaciuti. E quindi mi sfrutta per le visualizzazioni. Assolutamente sì. Cioè, sarei scemo a non farlo. Ci sta. Capito? E per gli ascolti, ok? L'episodio di oggi vuole essere una... Io odio chiamarle chiacchiere, però. Chiamala, chiamala chiacchiere. È una chiacchiera, vabbè. È una chiacchiera. Su quello che alla fine ci ritroviamo a discutere. Non è un vero podcast, è una chiacchierata tra amici. È una chiacchierata, così lo dicono, lo fanno. Sulle relazioni, solite robe. Che per noi è solito. Cioè, ultimamente ne stiamo parlando di continuo. Ultimamente, da quando ci conosciamo ogni giorno. Da un anno e mezzo, quasi due, che parliamo solo di questa cosa qua. E quindi vorrei capire oggi se ci abbiamo capito qualcosa. Niente. Io mi sono... No, niente no. No, poco. Veramente poco. E mi sono scritto un po' di robe. Cioè, io... È come se, boh, ho un problema con le frequentazioni di oggi. Chi non ce l'ha? Cioè, io mi sono reso conto che ci dimentichiamo di una persona con la stessa facilità con cui la togliamo dai close, tipo. Tu togli le persone dai close? No, a me lo fanno. Lo fanno. Cioè, io adesso, non scherzo, c'ho venti persone nei close. Venti. Cioè... No, io ne ho duecento, tipo. Nei duecento? Sì, ma quante storie posto io? Cioè, i miei close per me sono come i miei amici... Cioè, sono i miei amici, le persone che conosco di persona. Ok, ok, ci sta. Però, appunto, tu non metti storie, quindi ci sta. Io, invece, mettendone tante, nei close faccio vedere principalmente la mia intimità. E' quello che preferisco non far vedere a tutti, tipo, me in casa sfatto che magari faccio qualcosa o... Non lo so. Cioè, insomma, me in casa, solitamente. E c'ho venti persone, ma perché una persona, prima di metterla nei close, deve far parte della mia vita o quotidianità, comunque. Non che queste venti persone facciano parte della mia quotidianità, le senta spesso, sempre. Però, tipo, amici che conosco da una vita, ok. Ma ti direi che le duecento persone che ho io, la maggior parte, fanno parte o hanno fatto parte della mia vita privata. Esattamente, esattamente. Però, invece, ci sono persone che mi sono reso conto e quando succede questa cosa è un bel campanellino d'allarme che appena ti conoscono, appena hanno un minimo di confidenza, ti mettono nei close, capito? E poi, però, cosa succede? Che poi ti tolgono. E quella è la cosa strana. Cioè, appena non sei più la cosa nuova o... Io dico persone, ma in realtà sono ragazze. Cioè, io intendo ragazze, non persone. Con cui magari cominci a scriverti, sentirti, ok? E dopo un po', basta. Cioè, non sei più la novità, non sei più la cosa così. Quando cominciano a prendere le distanze, una delle prime cose che fanno, oltre a essere più fredde, rispondere a monosillabi, eccetera, è toglierti le close. Io sta cosa proprio non la noto, ma perché non mi scrivo con ragazze? Perché? Eh, ma io... Perché quelle che conosco, cioè, difficilmente mi scrivo con così tante ragazze da... Cioè, perché mi rendo conto che le ragazze con cui mi sono scritto mi hanno aggiunto i close. Ok. Ok? Però non sono tante. E non mi hanno tolto, pensandoci. Che io sappia, almeno. Ok. Magari, eh, appunto, tu come le conosci le ragazze, di base? Dal vivo? Cioè, la maggior parte del rapporto si costruisce dal vivo? Sì, sì, no, si costruisce dal vivo. Potrai conoscerle online. Io ti direi che un 50% delle ragazze che ho... Con cui ho avuto a che fare in senso romantico le ho conosciute dal vivo. Un 50% online. Mettiamola così. Però comunque anche quelle conosciute online le ho approcciate. Esatto, esatto. Poi noi siamo conosciuti dal vivo. Esatto, l'approccio che è online non è tanto il conoscersi, perché conoscersi è un po' più... Cioè, ci vuole un po' più tempo. È un po' più profonda come cosa il conoscersi. Da quanto siamo single? Sei single? Io sono single... Cioè, nel senso che non sono fidanzato da... Da fidanzato, esatto, sì. Due anni. Ok. Più o meno. Settembre 2022. Due anni. Ah, ok. E sono... Poi in questi due anni ho avuto qualche frequentazione che però non era fidanzamento e sono ufficialmente proprio singollissimo, quindi senza neanche frequentazioni, da due mesi e mezzo, tre. Quanto tempo pensi di aver passato da single, non... cioè, senza frequentazioni... In questi due anni? Sì, in corso. Quasi tutto. Ok. Cioè, a parte quelle, ti direi, due frequentazioni che ho avuto, che sono durate due mesetti l'una, io resto del tempo ero single. Ok. E senti una... cioè, ti senti diverso nei due periodi? Cioè, senti di essere un Thomas, una persona diversa? Quando ti frequenti e quando sei invece single da solo? È diverso in che senso? Cioè, vivo in maniera diversa. Ok, sì, quello. Cioè, non come personalità e carattere, ma proprio le cose che fai e che pensi e come stai. Ah, ok, sì, vivo la vita in maniera più tranquilla, tendenzialmente, quando sono single, ma perché non ho... non ho nessuno a cui pensare, nel bene o nel male. Quindi nel male è un peccato, perché non ho magari qualcuno con cui condividere dei bei momenti, però nel bene non ho neanche qualcuno con cui condividere brutti momenti. Ok, quindi non ho pensieri del tipo, chissà cosa pensa questa persona se io mi comporto in quest'altro modo. Ecco, non ho quel pensiero. Ok. Sono più me stesso, forse. Eh, quello dicevo, esatto. Cioè, sei una persona diversa? Sì, sono... mi faccio meno problemi. Mi faccio meno problemi, ecco. Ok. Cioè, io sono... spietato è la parola brutta, però sono sincero con i miei amici. Quindi, se c'è qualcosa che non mi va bene, lo dico. Cioè, se c'è qualcosa che non voglio fare, non la faccio. Ok. Mentre con una ragazza di frequento, magari ci penso un po', perché dico, non la vorrei fare questa cosa, però la potrebbe far star bene, la potrebbe rendere felice e quindi a volte la faccio. Perché rende a tua volta... perché ti rende a tua volta felice. Esatto. Renderla felice. Esatto. Però a volte è un po'... cadi un po' in un tranello facendo questa cosa, perché c'è un limite, non è che puoi fare tutto quello che rende felice un'altra persona, se te invece poi ti annulli. Non che io l'abbia mai fatto. Ecco, io tendo a fermarmi prima. Nel momento in cui mi rendo conto che diventa... che la cosa mi sta sopraffacendo, la chiudo. La chiudi? Cioè, non è che fai tipo un passo indietro, magari cerchi di sistemare... cioè, la chiudi proprio. Sì. Ok. Forse dovrei fare i passi indietro. Eh, ma forse... Però cosa vuol dire fare il passo indietro? Eh, esatto. No, non è forse... No, la chiudo. Esatto. Perché il rapporto sta andando verso quella direzione. Se funziona è perché è così. Probabilmente se fosse diversamente non funzionerebbe. Ma infatti sta roba... Adesso ci torniamo sull'annullarsi. Io sono single dallo scorso novembre. E in questo tempo ho avuto un paio, anch'io, di frequentazioni. Sì, due o tre frequentazioni. Però nel mentre... Io so, ho fatto la vita da single. Molto semplicemente. Cioè, ho preso le cose per come venivano. E quindi nel senso che se una ragazza, cosa che è successa più e più volte, non mi prendeva dal punto di vista sentimentale, romantico, probabilmente magari ci andavo a letto. O comunque costruivamo un rapporto molto più superficiale. E buona lì. Cioè, non c'era... Non c'era neanche le pretese, ok? Senza alludere nessuno. Si metteva le mani avanti. E basta. Un po'. Una vita da single, ok? Ma ora mi sono reso conto che non puoi approcciarti alla vita in generale, comunque al dating. Come si dice dating in italiano? Boh. Al dating. Al dating. Usiamo sta parola. Con quella di vediamo cosa succede. Alle frequentazioni. Alle frequentazioni. Esatto, esatto. Cioè, devi approcciarti dove, essendo già tipo con... Con le idee ben chiare. Cioè, tipo, nella tua energia. E dire, no, ok, io sto bene da solo. Cioè, non devi dimostrare ed emettere l'energia che stai cercando qualcuno. Cioè, capito? Non devi... Non deve essere un approccio del tipo... Cioè, devi essere disinteressato, quasi. Cioè, non devi starla cercando attivamente come se ti servisse. Perché stai già bene da solo. Ma allo stesso tempo non devi neanche cercare per... Per... Con quella di... No, ok, devo assolutamente trovarne una. Capito? E riguarda quella cosa che dicevi prima del annullarsi. Cosa pensi che... Cioè, in che modo ti annulli? Allora, io annullarmi, annullarmi non l'ho mai fatto. No, quello è l'estremo. Però, dico, mettermi un po' in secondo piano. In cose. Non lo so, fare delle cose che io di base non farei. Quindi, ti faccio un esempio. Se io domani mattina voglio andare a correre e mi voglio svegliare presto. E voglio svegliarmi, che ne so, magari alle sette. Stasera non esco con i miei amici. Cioè, non... Sto a casa e vado a letto presto. Mentre magari può capitare che frequento una ragazza e quella sera ci vediamo lo stesso. Perché se non ci vediamo quel giorno, poi non ci vediamo più. Poi non so come facciamo, non ci vediamo più. E quindi faccio tardi. Perché vado a vedere questa ragazza. Magari sto con lei fino alle due. E il giorno dopo sono stanco perché ho dormito cinque ore. Quindi faccio una cosa che io di mio non avrei fatto. Cioè, se fosse stato qualsiasi altra persona, non l'avrei fatto. Sarei stato a casa. E invece l'ho fatto. Quindi magari sul momento sono contento perché comunque sono felice quella sera. Mi diverto, passo una bella serata e tutto. Anche lei è felice, ci vediamo. Sono felice perché lei è felice. Però poi il giorno dopo mi girano le palle. Perché ho dormito poco. O magari mi sveglio troppo tardi e non riesco a fare quella cosa che volevo fare. Quindi, capito quello che intendo dire. Cioè, faccio cose che di base non farei. Ok. E io infatti ci ho pensato, e non nego tipo di aver fatto questo discorso con amici e amiche. Ok? Cioè, è auspicabile volere un rapporto, cioè per me, ragazzo, è auspicabile avere un rapporto con una ragazza che sia simile al rapporto che ho, diciamo, con te. Quindi di amicizia. Dove non ti frega se gli dici no, se lui non vuole fare qualcosa. Cioè, se esci e vai con gente. Cioè, chi se ne frega. Ok? Però, alla fine, sei tranquilli. Non hai mai l'ansia che, non lo so, esca con qualcuno. Cioè, non è che sono geloso se esci con qualcuno o se non so dove sei. Cioè, capito? Perché siamo amici, cioè, ci stanno. Avrebbe senso volere un rapporto del genere con una ragazza con cui ti frequenti in modo romantico? Secondo me è quello che tu dovresti volere. Cioè, adesso questa che ne so io. L'oracolo della... Dai, secondo me la cosa che va cercata è una persona sincera e schietta. Perché il rapporto nostro funziona perché siamo sinceri e schietti. Non perché siamo noi. Perché magari comunque hai degli amici che non sono sinceri e schietti. Perché le cose... Cioè, la mia preoccupazione nel dire stasera ci vediamo, anche se domani vorrei svegliarmi presto, nasce dal fatto che magari io non so come ti potrebbe far sentire se io ti dicessi no, stasera non ci vediamo. Cioè, se io fossi sicuro che tu mi dici, guarda, so che domani devi fare questa cosa, devi svegliarti presto. Per me non è un problema se stasera non ci vediamo. Io sono tranquillo. Però è difficile trovare una persona che ti dica una cosa del genere, capito? Perché magari non te lo dice perché a sua volta non vuole ferirti. Ok, e quindi dovresti trovare una persona che costruisce un apporto così profondo che c'è con la tranquillità. Quindi lì, cioè, potrebbe esistere questa cosa? Secondo me non dipende dal rapporto, ma proprio dalle persone singole. Ok. Cioè, una persona non è che è... Ora, può succedere. Però secondo me è difficile che una persona che non è schietta e sincera di suo lo diventi contente col tempo. No, 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 sono d'accordo. Io vorrei una persona che fosse già schietta e sincera di suo. E che quando mi dice, guarda, questa cosa non mi va bene, cioè, quando una cosa non le va bene, mi dice, non mi va bene. E quando una cosa le va bene, mi dice, ah, questa cosa mi va bene. Non che... Cioè, è il non sapere come si sentirà. Che poi alla fine mi fa... Sto facendo un discorso veramente contorto. No, ma ho capito cosa intendi. Cioè, il fatto che non hai quella tranquillità di essere sicuro che lei ti esprima esattamente come si sente, ti mette quel pensiero in testa di potenzialmente farla star male. E tu non vuoi far star male una persona, non vuoi fare del male perché vuoi stare bene con lei. E quindi ti vengono... Cioè, hai paura che facendo quello che vuoi tu e ferendola poi lei si allontani? Anche? No, non che si allontani, che stia male. Ok. Cioè, non è... perché se si allontana per delle cose che io ho fatto non con cattiveria, ma ho fatto perché pensavo fossero quelle giuste e a lei non vanno bene, magari semplicemente non siamo compatibili. Esatto, giustissimo. Che ci sta... A me dispiace proprio che ci stia male, non che si allontani. Ok? Se poi si allontana perché non andavamo bene come coppia, cioè, è meglio allontanarsi da una coppia nella quale non stai bene piuttosto che stare insieme forzatamente. No, assolutamente. Cioè, per quello infatti sono molto d'accordo, e sono una persona sincera, e sono molto d'accordo sul fatto che sia la sincerità e la verità quella che devi cercare sempre, perché così tutto quello che ti verrà sarà vero e sincero. Però hai notato una cosa. Non so te, ma questa cosa qua che hai detto del non voler far star male, eccetera, rientra un po' nel discorso dell'essere empatici. Cioè, provare empatia verso una persona con cui stai frequentando, comunque stai cercando di approfondire un rapporto. Io ultimamente faccio davvero tanta fatica ad entrare in empatia con una ragazza che conosco, perché è come se uno fossimo tutti molto... Vabbè, cioè, i primi appuntamenti. Cioè, parli sempre delle solite robe, non c'è mai quella profondità. Infatti ne parlavamo, non mi ricordo quando, un po' di tempo fa, che ogni volta al primo appuntamento ti puoi indossare una maschera e parli delle cose superficiali, delle cose che sai che devi dire, di cui devi parlare e non vai mai più sul profondo. E questa superficialità a me fa mancare molto di empatia. Cioè, non riesco ad entrare in empatia con le persone. Quindi ora mi sento tanto apatico, ma veramente tanto apatico, e perché non c'è nessuna... Cioè, vedo difficile che una ragazza adesso che conosco da zero, ok, mi accenda, mi faccia dire ok, se è interessante. Eh, succede quando ne fai tanti. Non sentirai mai nessuno che ha fatto cinque appuntamenti nella sua vita a dirti, no, non ce la faccio più a fare i primi appuntamenti, siamo tutti falsi. Cioè, devi farne decine prima di dire questa cosa. Secondo me è un problema non del primo appuntamento in sé, quanto del fatto che facciamo primi appuntamenti con chiunque. Cioè, magari ci sta... ci starebbe essere un po' più... facciamo, dico. Cioè, in generale senti tanti primi appuntamenti. Cioè, senti tante persone che ti dicono ah, sì, oggi esco con questa persona, settimana prossima c'ho quest'altra cosa, fra due giorni un'altra. Cioè, che da un lato ci può stare, perché ci sono single, voglio conoscere persone, voglio vedere. Però il fatto che tu esca con tutti, magari fai in modo che tu stesso dia poco valore alla persona con cui esci, esci con una persona a caso. Esattamente, quello che dicevo prima dell'energia, parlo proprio di questo. Cioè, quindi io qua voglio dire due cose. Uno, sul fatto di uscire con più persone. Quindi tipo, secondo me, adesso appunto per come voglio fare io, voglio comportarmi io adesso, se esco con una persona, esco con lei e approfondisco prima con lei. Ok. Seconda cosa invece è il passare da totali sconosciuti, cioè che non ci si conosce, a ci stiamo frequentando in una serata. Cioè, in una volta che ci vediamo. È quello secondo me. Questo è assurdo. Succede però. È quello secondo me che sbagliamo tanto. Cioè, il fatto di uscire con entrambi nella testa, l'obiettivo ultimo di stare insieme e di essere romanticamente legati. Invece io, per quello, i primi appuntamenti, quando io dico che tendo a non indossare maschere ai primi appuntamenti, cioè che tendo a essere molto me stesso e minchione, ok? Cioè, easy, diciamolo meglio. Intendo proprio questo. Cioè, non voglio subito passare da sconosciuti a se è la ragazza che mi piace, che mi accende, con cui mi sto frequentando. Cioè, è un'uscita, come dicono, in amicizia. Però è un'uscita per... No, più che in amicizia, perché lo odio. Ho fatto le virgolette per chi non stesse guardando il video. Io odio la dicitura uscire in amicizia. È un'uscita per conoscersi. Cioè, non c'è niente di male nell'esprimere interesse in un'altra persona e dire, guarda, voglio conoscerti. Però non riusciamo a farlo. Cioè, perché secondo noi la prima uscita deve essere per forza un appuntamento. Però se non ci siamo mai visti, non ci conosciamo, stiamo uscendo per conoscerci. Sai cosa? Magari vivi anche un po' di pressione, di fretta, perché appunto sai che tu stai uscendo con 50 ragazze, ok? O comunque hai un sacco di appuntamenti che potresti fare. Dici, anche lei avrebbe magari tanti appuntamenti che potrebbe fare e quindi avete entrambi fretta di... Come posso dire? Di serrare la cosa. Di serrarvi tra di voi, in modo che l'altro non esca con altri 50, lei non esca con altri... Cioè, hai capito? Ho capito. Quello potrebbe anche essere, cioè, se c'è un mondo dove esci con una persona ogni cinque mesi, non hai fretta di conoscerlo, di legarti. Conosci con calma, poi se succede, succede. Io infatti adesso mi sento molto tranquillo perché è esattamente come la penso io. Cioè, adesso non ho paura che, se c'è una ragazza che voglio tanto conoscere, non ho paura che magari adesso si stia frequentando con qualcun altro, quindi devo muovermi a scrivermi, a scriverle, devo muovermi a fare la mia mossa. Sono molto tranquillo e paziente, ok? Cioè, so che voglio scrivere a quella ragazza, quando sarà il momento le scrivo, cercherò, cioè, vorrò uscirci, cioè, travorrò avvicinarmi per conoscerla, con molta calma, di nuovo, con molta pazienza, e senza la fretta di cercare le conferme. Cioè, cercare il, ah, ok, le piaccio, oppure, ah, ok, questa cosa sicuramente ci legherà, oppure, ah, che bello, siamo andati a cena insieme finalmente. Cioè, se succede, è perché succede con il succedere delle cose. Cioè, ovvio che non succede a caso, cioè, non è che vai a cena a caso, ok, cioè, devi chiederglielo, lei ti chiede, oppure comunque ci deve essere una proposta, quindi ci deve essere dell'impegno. Però non forzato, cioè, non che il volerla conoscere sia quella cosa che mi spinge poi, tipo, a chiederle di uscire. Perché, ah, ok, allora, cioè, solo per, tipo, timbrare l'obiettivo del, ok, ci sono andato a cena, capito? E quindi mi sento, lì, lì in quel caso mi sento, ah, ok, quando ci uscirò a cena, allora vuol dire che ci stiamo frequentando e che stiamo uscendo. Però ci sarà sempre un scalino in più, capito? Io una volta avevo un po' più fretta di, tipo, non so, uscire con una ragazza, perché poi magari, se non le scrivo oggi, settimana prossima si è fidanzata con un altro. Cioè, un po', un po' ce l'avevo, sta cosa. Però non ce l'ho più, perché, ragionandoci, non la conosco. Cioè, nel senso, a me magari piace, perché ancora non la conosco e magari mi piace, mi attira, vorrei conoscerla e quindi vorrei costruirci qualcosa nella mia testa, però voglio costruire qualcosa con una persona che in realtà io non conosco. Quindi potrebbe anche non piacermi, se ce la conoscessi davvero, ok? Quindi, diciamo che vivo un po' nel mondo della realtà dei fatti e quindi cerco di convincermi che se anche io non le ho scritto, non abbia fatto la prima mossa e un mese dopo la vedo con qualcun altro, boh, non era quella per me. Non è quella giusta. Amen. Eh, qua faccio fatica a capire cosa penso, perché va bene che le cose devono succedere, va bene che se non è andata così vuol dire che non doveva andare così, però quante volte poi invece abbiamo avuto le palle di fare qualcosa e alla fine abbiamo creato quel qualcosa perché siamo riusciti a fare il primo passo? No, aspetta, io non è che dico che quello che accade deve accadere, anzi, questa roba io proprio non ci credo. Ah, ok. Quello che dico è, qual è, allora, qual era la possibilità che comunque quella ragazza fosse la donna della mia vita? Cioè a me piace, piaceva, mi attirava e tutto quanto, però è veramente raro che quei, cioè sarebbe stato veramente raro che fosse stata la donna della mia vita. Quindi anche il fatto che io non ci stia uscendo lei con qualcun altro, certo c'è quella possibilità su un milione che era la donna della mia vita e ci sta uscendo qualcun altro, ma nella realtà dei fatti probabilmente non è così. Cioè non è stata una grande perdita, non so se mi sono spiegato. Ho capito. Cioè la donna della mia vita è un'altra, magari. Eh, riguardo a questo, la donna della tua vita, se tu potessi tipo The Sims, costruirla, con tutte le caratteristiche scegli tu, sapresti cosa vorresti? Sapresti come farla? Ma, caratterialmente o esteticamente? No, caratterialmente. In modo preciso. Non precisissimo, però saprei quali sono le cose che voglio assolutamente e le cose che non voglio assolutamente. Cioè vedi una... Trovi un trend, una tendenza, tra le ragazze con cui ti sei frequentato e le caratteristiche che avevano? Quelle che mi sono piaciute, sì. Sì, allora, cioè ci sono cose che voglio assolutamente e cose... come si dice in inglese? Non negotiables. Ok. Cioè ci sono cose che per me sono così. Quindi che sia sincera, che sia diretta e schietta, che mi dica cosa le piace o cosa non le piace. Quindi sincera, diretta e schietta, che sia intraprendente e che abbia qualcosa che le accende. Ok. Tipo una passione, un qualcosa che le accende, qualcosa che le piace... Cioè deve piacerle la vita, ecco. Non starai con una che le chiedo cosa ti piace fare e mi dice ma non lo so. Sì, sì, capito. Cioè che abbia quella cosa... Ma anche una cagata, eh. Che le piaccia tanto. Sono d'accordo, sono d'accordo. Anche a me affascina questa cosa quando la trovo in una ragazza, quando la sua passione non si fa troppo comandare dalla vita, da quello che succede, ma a lei è una posizione, a lei è quella cosa che... Cioè le ragazze che più mi sono piaciute sono... Che non sono tante, eh. Cioè due, ecco. Sono ragazze alle quali io magari... Cioè avevano quella passione, quelle due o tre passioni che se io le chiedevo una cosa di quella passione mi parlava anche un'ora. E io l'ascoltavo. Cioè io poi ero curioso. Sono curioso di sentire cose. E a me questa cosa piace un sacco. E poi, cosa non vorrei assolutamente, è una ragazza bugiarda, è il contrario. È una ragazza gelosa e magari troppo possessiva. Ok. È più o meno la stessa cosa. Ok, sì. È tutto uno spettro. È un archetipo che riesco a figurarmi molto bene in testa di una ragazza. non mi piace. Questo è quello che... Cioè se potessi costruirla con The Sims questi sarebbero... Cioè queste sarebbero le cose che assolutamente vorrei e non vorrei. E poi tutto il resto ci sta, non ci sta. Cioè insomma. Eh no, infatti cerco di adesso non essere troppo picky. Troppo... Come si dice quando non ti piacciono tanti cibi. Ah, eh... Schizzinoso. Schizzinoso. Ok. Eccato. Esatto. Perché altrimenti stai lì a guardare veramente, cioè cerchi il pelo nell'uovo nel senso quante volte alla fine anche con ragazze che ti sei frequentato avevano quella cosa che pensavi che magari una ragazza con quella cosa non ti sarebbe mai piaciuta però poi, cioè passa un po' in secondo piano perché ci sono molte cose che ti piacciono. Cioè secondo me bisogna trovare un equilibrio tra quelle cose... Ok, ci sono le cose essenziali però poi c'è tutto il resto. Cioè siamo fatti un sacco di sfumature. Ah, sai un'altra cosa mi è venuta in mente? Questa è importante perché l'ho capito solo dopo alcune frequentazioni. Cioè non la pensavo prima. Che non dia cose per scontate. Ok. Cioè che non... Tanto precisa questa. Sì, cioè che non dia niente per scontato. Cioè... Adesso come faccio? E poi una persona che non dà mai per scontato niente è molto grata delle cose che succedono. Esatto. Cioè che è molto grata... Apprezza le cose. Esatto. Che quando fai qualcosa per lei quella cosa è apprezzata. Non... Vabbè... Cioè se non la fai mi arrabbio però se la fai non faccio niente. Capito? Cioè se ti... Vengo a prendere in macchina in un posto molto tardi la sera perché sei arrivata da un treno o da un aereo non è che quella cosa dovevi farla e se per caso non puoi farla perché è un impegno mi incazzo. Cioè quella cosa è una cosa in più che sono molto grata che tu l'abbia fatto per me. Sono completamente d'accordo. Quella cosa... Io do molto valore ai gesti un sacco e alle piccole cose. Questa non è tanto piccola però è comunque una di quelle cose che spesso se tipo lo dicessi così a un tavolo con altra gente direbbero vabbè ma il tuo ragazzo è ovvio che ti venga a prendere cioè se non viene lui chi dovrebbe venire? Eh ma non è così ovvio. Cioè il fatto che sia ovvio non vuol dire che tu non lo debba riuscire ad apprezzare. Esatto. Cioè per quanto... Cioè è da ambo due le parti. Ok? Cioè se io sono il tuo ragazzo ho anche un po' l'obbligo morale di... l'obbligo morale ho quella sensazione che mi fa pensare ok no fofo cioè devo fare dei acts of service dei gesti belli per mantenere il rapporto costruire ok anche per te perché ti voglio bene e voglio farti dei favori non sono dei favori però ok dei bei gesti però non sono neanche scontati cioè non devi neanche poi come dicevi tu prima arrabbiarti perché non l'ho fatto perché non c'è un contratto perché l'ho fatto male capito? Cioè tipo ti faccio un esempio dovevo venirti a prendere perché arrivavi in stazione alle 8 di sera e sono arrivato alle 8 e 20 e ti incazzi non esiste sì 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 non sei il suo autista esatto se volevi la persona che ti vede a prendere alle 8 in punto preciso non sbaglia mai chiami un taxi cioè ti sto facendo un favore magari anche distante questa roba qua la soffro tantissimo cioè invece che essere contenta di vederti tipo ti puntualizza l'errore questa cosa qua a me devasta cioè quando succede tipo la prima volta dico ok basta cioè molto è una cosa che mi spegne un sacco ma è veramente un sacco che magari non è neanche colpa sua ma dipende da com'è cresciuta cioè io veramente mi rendo conto che tante persone che conosco danno per scontato cose che i loro genitori fanno per loro che per me non erano così scontate sta roba del dare per scontato è pericoloso cioè dipende anche se non dai tuoi genitori da come come sei cresciuto sì da come ti hanno abituato cioè non so come dire per me non era scontato avere un passaggio per l'allenamento ogni giorno cioè andavo in autobus poi se capitava mi venivano a prendere però comunque i miei lavoravano cioè avevano la loro roba quindi non era così scontato mentre magari c'erano alcuni miei compagni che per loro era ovvio che la mamma e il papà alle cinque arrivava a prenderlo e se arrivava alle cinque un quarto perché era in ritardo incazzati sta roba a me proprio non piace anche a me sono d'accordo e ultima cosa di cui volevo parlare è della fiducia e l'impegno cioè secondo te facciamo più fatica a fidarci delle altre persone quando ci ci frequentiamo quando cominciamo a frequentarci io no però magari sono un po' un outsider ma sai che anch'io cioè io non nonostante magari succedano cioè mi capitano delle batoste che sento molto emotivamente o che magari mi trattano male così non perdo la fiducia cioè non voglio chiudermi a riccio oddio no aspetta pensandoci bene dipende in cosa ok io l'ho un po' perso in questi ultimi mesi però per altri motivi ok ti spiego cosa intendo io ora magari faccio più fatica a credere se una ragazza mi guarda negli occhi e mi fa promesse sul futuro alle parole alle parole faccio un po' forse lì sì ma forse sono sempre stato così io forse prima ero più ingenuo adesso sono più giusto ok però di base non ho perso la fiducia del potenzialmente avere davanti a me una ragazza che davvero ci tiene ok cioè non non do per scontato che stia mentendo ma neanche che stia dicendo la verità ok io do molto valore ai gesti e a quando dimostri le cose ok però non c'è la fiducia che ti parlo di non cioè non ho paura che adesso ogni ragazza mi ferirà perché le cose possono andare bene o male fa parte del del gioco e e nonostante appunto le batoste non mi fermo cioè appunto non mi chiudo eh io cioè razionalmente ti direi che hai ragione però non è così scontato come cosa cioè perché non ti non ti potrai mai fidare al cento per cento di quello che ti dice una persona cioè comunque vuoi o non vuoi uno può sempre dirti una cosa e pensarne un'altra e poi volerne fare un'altra quindi non ti dico che è facile dare fiducia però è l'unica soluzione cioè se non lo fai ok starai da solo per sempre cioè è l'unica quindi è difficile però non ci sono altre soluzioni però faccio difficoltà a farlo forse per quello che sono singolo faccio difficoltà a farlo ed è l'unica soluzione eh ma sai cosa allora io mi sono reso conto che riesco molto più facilmente a dare fiducia quando conosco la persona ok e quindi non so ultimamente c'è questa idea c'è questa idea che se devo mettermi con una persona cioè se devo frequentarmi in modo romantico con una persona se la conosco da due mesi è comunque poco è pochissimo cioè se tu ti stai frequentando con una persona da due mesi magari siete usciti cinque volte magari una cena quindi sei magari una volta che ne so a un centro commerciale così cioè siete visti meno di dieci volte non avete passato chissà quanto tempo insieme non sai come è l'altra persona quando si arrabbia non sai com'è quando viaggia quando sta a casa da solo cioè non la conosci la persona magari c'hai queste robe magari c'hai qualche sprazzo anche di quotidianità perché vai a dormire rimani da lei e poi ti svegli la mattina dopo ma non è potenzialità quella perché tu sei comunque ospite esatto esatto uno specchio cioè una roba che non non dimostra la realtà ok e quindi mi sono convinto che la relazione che cercherei cioè la relazione migliore secondo me sarebbe con una persona che potenzialmente conosco da un po' e che però non c'è mai stata l'intenzione di vedere dove sarebbe andato quel rapporto lì ma allo stesso tempo mi viene in mente che se non è successo fino ad ora perché dovrebbe succedere adesso capito vabbè questa seconda cosa secondo me non ha senso non è successo fino ad ora perché non l'avete fatto succedere ok ok te l'ho detta apposta perché volevo chiederti cosa ne pensai perché anche secondo me ci vuole l'intenzione ok non succede da solo non succede da solo esatto questa cosa ancora del vedi cosa succede no perché se io che poi è anche molto difficile da spiegare razionalmente quando provi qualcosa per una persona che è difficile tipo da buttare giù e dire ah guarda mi piace per questo questo e questo in modo schematico ma proprio ti piace stare con una persona e vorresti parlarla vorresti sentirla è difficile da spiegare in modo razionale oggettivo cioè perché vuoi sentirla mi fa stare bene mi piace ok come prima dicevi quando ti parla della sua passione o così è tanto bella quella roba cioè anche a me fa sentire molto legato mentalmente e quindi per quello dico nonostante magari ci siano quelle persone con cui cioè che conoscono un po' e non è mai successo mi viene da pensare ok ma proviamo a vedere se potrebbe succedere perché alla fine andiamo d'accordo ok e se abbiamo continuato a conoscerci per questi anni vuol dire che comunque non ci siamo allontanati e facciamo più o meno cioè siamo compatibili in qualche modo ok se non avete ancora ritigato ancora non vi odiate esatto esatto sono d'accordo sul fatto che ci voglia l'intenzione capito e beh qualcuno deve fare qualcosa se no si rimane lì quindi facciamo un appello un invito alle persone a prendere una posizione avere un'intenzione io ci provo anche ma mi gostano lo fanno lo fanno lo fanno anche io io invece anche io a me cos'è che fanno vanno dall'ex io c'ho sta roba a te gostano ma tornano dall'ex si si brutto quello anche non usate le persone ma non è che mi usano cioè semplicemente magari mi fanno intendere che non interesso però no io dico di essere sincero vedi torniamo sempre lì cioè se non hai la testa per fare quella roba non dirmelo dopo che ormai mi sono affezionato cioè dillo subito per quanto ti possa togliere tutta la storia romantica della frequentazione inizio ah che bello è una roba effimera che poi utilizzi per raccontare alle tue amiche ok e non per perché poi appunto ti dimentichi di me come mi togli dalla lista degli amici stretti e lì però ci rimango male a te non frega niente ovviamente perché sei diventata apatica e non mi penserai neanche però io ammetto che ci sono ancora persone qui penso ogni tanto non penso nel senso a quanto vorrei fosse qui non in quel senso però tipo mi è rimasto la mano in bocca capito che comunque siamo giovani e sbagliamo tutti sì no assolutamente e quindi a me è anche un po' l'età secondo me che ti fa vivere queste cose non sappiamo quello che facciamo nessuno sa quello che fa tutti improvvisano un po' e alla fine uno ti può spezzare il cuore anche involontariamente sono d'accordo infatti queste cose che mi succedono non do troppa colpa alle altre ragazze cioè alla ragazza o non penso che lei sia una persona che fa questa cosa abitualmente ok però l'ha fatta a me cioè quando la doveva fare nella sua vita è successo che la facesse a me ok però da questa cosa cerco molto di imparare e quando invece io mi trovo nella posizione di essere quello che si vuole allontanare da una persona cerco di non rifare gli stessi errori capito quindi queste cose io penso sempre purtroppo è molto masochista questa cosa però ogni volta che mi succede una batosta molto forte ti parlo di batosta emotiva che spesso è scaturita dalla fine di un rapporto con una ragazza con cui speravo succedesse qualcosa alla fine dopo imparo un sacco di cose quindi è come se per quello non perdo la fiducia forse cioè non perché voglio continuare a farmi del male ma perché so che quel male è momentaneo ma poi imparo un sacco di cose so esattamente sto affinando sempre di più il colpo cioè so sempre meglio cosa voglio perché so tanto cosa non voglio capito? ogni volta sì da un lato anch'io dall'altro però cioè se se quella cosa che ti ha ferita è una cosa che non puoi capire di una persona conoscendola ma la capisci solo quando la fa so se mi sono spiegato cioè se non puoi predirla prima non capirai mai che uno è un killer finché non ti uccide ok non puoi capirlo prima cioè deve farlo quindi non sempre è così facile trovare in una persona quelle cose che sai che ti faranno star male non so se mi sono spiegato ho capito ho capito cioè alcuni comportamenti sono cose che magari nascono in un modo e poi crescono 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 e a un certo punto diventano insostenibili invece alcuni comportamenti che ti fanno star male sono cose che succedono così da un momento all'altro cioè se tu nella tua vita sei stato tradito da una persona non capirai mai se la prossima persona che stai frequentando è una persona che tradisce finché non lo fa non è la piccola non è perché mette quella foto un po' provocante o perché ha tante amiche femmine o perché va a ballare da solo da sola cioè capisci che ti tradisce quando la fa quando la fa ok quindi ci sono alcune situazioni dove è difficile capire se quella persona ha quella caratteristica che tu dici no io non starai mai con lei eh in psicologia l'avevamo fatto cioè avevamo fatto una avevamo studiato questa cosa queste caratteristiche tipo dei sistemi si chiamano caratteristiche emergenti cioè tipo questa non è una caratteristica emergente cioè non è una roba che è sulla superficie ma che scopre appunto sotto cioè sta sotto il sistema quindi comunque ti devi fidare esatto e torniamo lì ti devi fidare e devi conoscere bene la persona o quante cose che abbiamo imparato ma anche se la conosci bene ti devi fidare cioè non saprai mai che tu non puoi sapere che io non sono un killer finché non finché non uscidi e c'è quella quella storiella del tacchino ripieno del contadino americano vuoi raccontarla non la sai no non la sai l'ho fatto in economia vabbè sulle certezze praticamente cosa succede c'è questo tacchino questo allevatore che alleva un tacchino e ha preso il tacchino perché c'è ringraziamento quindi ogni giorno gli dà da mangiare giorno 1 gli dà da mangiare il tacchino mangia giorno 2 torna gli dà da mangiare il tacchino mangia al giorno 30 il tacchino sono 30 giorni che mangia quindi si aspetta che dopo 30 giorni in cui ogni giorno questo contadino gli dà da mangiare anche al 31 gli darà da mangiare invece al 30esimo giorno lo ammazza perché è arrivato il momento di farlo arrosto quindi anche se una persona si è comportata con te per tanto tempo di fila sempre allo stesso modo a un certo punto potrebbe cambiare fare quella cosa che non ti aspetteresti mai ok e dici che può cambiare o dici che era l'intenzione fin dall'inizio era l'intenzione fin dall'inizio però tu non lo potrai mai sapere e anzi paradossalmente perché era interessante sta roba del tacchino più tempo passa e più tu ti fidi ok ma in realtà più tempo passa più ti stai avvicinando a quella cosa che non ti aspetti esatto esatto cioè più esatto più passa più ti stai allontanando dalla certezza praticamente cioè se tu stai con un traditore ogni giorno in cui non ti tradisce tu ti fidi sempre di più ma in realtà ti stai avvicinando sempre più al giorno in cui ti tradirà ho capito è il modo contrario di vedere la cosa quindi ti devi fidare che non ti tradisco perché non importa quanto lo conosci anche conoscendolo sempre meglio potresti essere una situazione in cui ti avvicini al momento in cui fa la cosa che non ti aspetti e infatti per quello cioè io di nuovo cioè stiamo girando intorno sempre quei concetti che però poi spieghi meglio e sono più ci hanno più sfumature però anche lì di nuovo sincerità dire le proprie intenzioni fidarsi però non puoi mai fidarti al 100% non puoi mai sapere tu in te stesso le tue intenzioni al 100% perché siamo umani cambiamo idea ok quindi nel dating o comunque nell'amore queste cose qua il dolore ci sarà sempre cioè ci sarà sempre quella cosa che ti fa male è come c'è la gioia c'è anche il dolore esattamente cioè non è non è neanche plausibile pensare che vada tutto bene e cercare di scappare dal dolore cioè no per quello non perdo la fiducia capito so che soffrirò nella vita in generale tanto vale soffrire e imparare nella nella speranza di trovare quella persona perché tanto alla fine ti basta aver ragione una volta come dicevano ieri sera ti basta aver ragione una volta e quella volta lì ci hai preso ok basta o no quante cose che abbiamo imparato no sei giusto sei giusto bene grazie prego 40 minuti ah dai bene ah ruota libera così è macchinetta no non andare via dai vi ringrazio per essere arrivati fino qua iscrivetevi al canale se mi state guardando su youtube seguite il podcast se mi state guardando su spotify e lui era eh sei ancora qua Thomas Sassueni vuoi dire dove ti possono trovare cosa fai mi dovete trovare su tutte le piattaforme social di condivisione video come Thomas Sassueni Thomas Sassueni abbiamo anche uno show insieme si chiama il capiamo show facciamo questa cosa però più simpatica io sono sempre di qua e lui è sempre di là quello sì però in maniera diversa è vero notate questa cosa e basta grazie per essere arrivati fino qui fatemi sapere cosa ne pensate le cose che abbiamo detto se c'è qualcosa che vi ha toccato particolarmente inviate questo episodio a una persona che secondo voi ha bisogno di sentire queste cose e basta ciao ciao